due grandi amici si incontrano dopo che si erano perse di vista ciao come va ma c'è una novità che è successo mia moglie che succede è scappata no ti ha lasciato ebbene sì e racconta dai ma guarda sembra che andavamo d'amore e d'accordo poi all'improvviso se n'è andata con un altro no accidenti e lui chi è è il mio miglior amico tu pensa addirittura aspetta pensavo che ero io il tuo miglior amico ma da quanto lo conoscevi questo no non lo conoscevo proprio e come faceva allora ad essere il tuo miglior amico lo è diventato da quando si è portato via mia moglie